Vediamo che il torneo è terminato, tutti i giocatori stanno fermando, vediamo che stanno mettendo via un sacchettino. Vediamo che hanno già terminato, come vedete, qui nei tavoli è terminato, c'è solo ancora un tavolo in gioco, c'è solo ancora un tavolo in gioco. Stanno ancora terminando il torneo, come vediamo, 22 giocatori rimasti, c'è stato un time. No, perché la mano è importante, come non c'è la mia, poi c'è un pochettino, vediamo che sta pensando. E' l'ultima mano della giornata e chiama, chiamata molto importante perché il piatto è veramente alto. Soprattutto perché è alla fine del torneo. Vediamo le carte. Mano incredibile sul finale, che potrebbe cambiare 10 su il torneo. Ricordiamo che le carte sono 3, 8, 6. Tiflina 58, Limongi 158, Rerase da Small Call di Martin. Davide, via! Sì, è giusto, 6, 7, 8, 9, 10, 20, qua, era giusto, qua sono 20, 20, 40, 60, 70, 80, 100, 10, 20, 30, 35, 38, 500, come ho detto? 138, 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 500, come ho detto? Ok, una volta anche in inglese perché non è italiano. 138, 500, come ho detto? 138, 500, come ho detto? 139, è stato chiamato. Questo è un retro, 10, 5 e era un gesto di… Qua c'è solo il giusto. Ok, puoi trovare tutti i chip? Non c'è nulla sulla ruota? Solo due chip stand-down, ok? Supererai! E finisce così il torneo. No, no, c'ho ancora una mano. No, no, veramente c'ho ancora una mano. Stai contando tutti tutti.